Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te Ti rivolga nel suo sguardo e sia pace in te Il sale fa bene? E' buonissimo! C'è te? Tu fai... Che risalzo volto e la sua grazia su di te Ti rivolga nel suo sguardo e sia pace in te Amen Dio ti protegga Ti benedica, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te Ti rivolga nel suo sguardo e sia pace in te Amen Dio non è mai stato sempre Figuriamoci l'uomo che è stato fatto a immagine di Dio Ma non perché lo dice la Bibbia Io l'ho sperimentato sopra di me Un'esperienza personale, Papa Sì, esperienza personale, sofferenze personale Tradimenti personali, peccati personali A buona e immagine di Dio E può compiere miracoli di ogni cielo Gesù disse E se verranno più meravigliate di questo Ci saranno altri Amore 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 Che Lui possa fare, Padre Sentire la tua voce E sentirsi amato da te Tu sei l'amore Grazie, Gesù Che la tua mano sia su di voi questa notte e non in te E possa provvedere sempre che lui la tua pace e il tuo braccio Possano andare sempre a te sotto Che possano ricordare quanto è amato Nel nome di Gesù Amen Amen God bless you God bless you Tutta la famiglia E i tuoi figli E i tuoi figli E i tuoi figli Grazie.